Andrea Zenga finisce al centro del gossip in questa calda estate 2021. Andrea Zenga aveva annunciato sui social di essere in partenza senza la sua fidanzata Rosalinda, direzione Sardegna, per motivi di lavoro. Nella mattinata del 24 luglio, però, Andrea è stato beccato e paparazzato da alcune fan in aeroporto a Milano, in compagnia di quella che inizialmente è apparsa come una donna misteriosa. I due sono stati beccati mentre si avviavano insieme in aeroporto, diretti a prendere il volo che li avrebbe portati in Sardegna. Dejanira Marzano, sui social, ha subito riportato le segnalazioni che le arrivavano sul conto di Zenga. Tuttavia, è stata la stessa Dejanira a rivelare che quella donna con cui è stato visto il ragazzo potrebbe essere una collega di lavoro. I due, infatti, dovrebbero far parte della stessa agenzia e quindi sarebbe questo il motivo per il quale sono stati beccati insieme mentre prendevano lo stesso aereo. Secondo voi è realmente una collega di lavoro.